Non ho avuto molto tempo di stare proprio vicino a Padre Pio, se non nei momenti in cui qualche volta doveva andarci assolutamente anche per chiedere qualche cosa. E ricordo questo particolare, Padre Odorico era addetto a tenere compagnia a Padre Pio sul terrazzino, lui doveva andare a fare un servizio. Dice, Padre mi fai un favore, quale favore? Di tenere compagnia un po' a Padre Pio. Dico, ma io non ho il coraggio di parlare con lui. Dice, tu non ti preoccupare, quello sta lì, si dice il rosario, prega per condosso, tu basta che stai là. E io andai là, mi misi di fronte a lui, così a guardare. Un certo punto Padre Pio mi guardò e dice, ma tu che fai là, voglio... E dice, Padre, che faccio? Mi hanno detto di tenerti compagnia, e sto qui a tenerti compagnia. Cioè, per dire, la semplicità mia è anche quello che era la semplicità, la fraternità di Padre Pio. E un'altra volta, un altro mio compratello, che era detto dopo la confessione degli uomini nella sacristia, quella vecchia, Padre Pio, alla fine, si andava lì, si sollevava dalla sedia e si accompagnava nella cella. Quando io andai là per sollevarlo, non sapevo che Padre Pio fosse così pesante e che ci voleva la forza. Allora, invece di sollevare io a lui, fu lui che mi tirò sopra di lui. E disse, eh, abbiamo fatto l'America, è un'espressione che Padre Pio usava a dire, perché mi trovai abbracciato a Padre Pio senza volerlo. Grazie. Grazie.